Ciao a tutti, bentornati sul mio canale come avrete letto nel titolo oggi video spacchettamento di due cosettine che sono arrivate dall'iexpress e poi andiamo ad aprire anche le bustine di figurine che ho preso ancora delle gorgeous allora inizierei subito con l'iexpress e quindi vi faccio vedere prima quello che ho preso in questo pacchettino ed ho acquistato due cover per il cellulare allora una è questa ed è magnifica è morbida trasparente e ci è disegnata questa fashion girl la fashion girl è un'illustrazione di un'americana ed è davvero stupenda, io amo queste fashion girl amo questa illustratrice e devo dire che la cover che ho acquistato su Aliexpress è stupenda e poi ne ho presa un'altra quindi questa mi era già arrivata qualche settimana fa e già la sto utilizzando sul mio cellulare anzi ve la faccio vedere ecco sul cellulare poi è stupenda e quella che mi è arrivata invece oggi sempre con un'illustrazione dell'americana ed è questa stupenda bellissima veramente veramente bella guardate che bella questa fashion girl io l'adoro ed è fatta veramente bene morbidissima è perfetta appunto per il mio iphone e è stupenda vediamo anche questa come sta sul mio telefono allora perfetta i buchi sono tutti giusti perfetta quindi è stupenda e le ho pagate veramente veramente poco meno di un euro passiamo ora al bustone grosso dove praticamente ho acquistato vari kit di washi tape adesso li tiro fuori tutti ok e io inizierei da questi allora sono dentro in queste scatoline sono leggermente schiacciate però sembrerebbe che gli washi dentro siano opposto ogni confezione ha 10 washi tape quindi in totale ne ho comprate i 50 allora sono veramente veramente stupendi il prodotto non sembra neanche pochissimo certo non è non è tantissimo vediamo quanto no non dice la lunghezza o forse sono due metri due metri però abbiamo un washi anzi scusate due washi da 3 centimetri 2 4 da un centimetro e mezzo 2 da 0,80 e uno da mezzo centimetro 0,5 allora questi qua appunto sono tema floreale e abbiamo questo grosso poi abbiamo questo con sulle rose qui ah quest'altro con altre rose vediamo se riusciamo avvicinare ok così li vedete bene questo qua piccolino ha il nastrino e poi c'è una rosellina e questo qua ancora più sottile ha dei mazzolini di fiori li rimetto addirittura qui dentro perché mi sa che li lascerò dentro queste bellissime scatoline poi abbiamo questo che invece è stupendo perché praticamente ha i giorni della settimana e poi ha i ramoscelli con le rose cioè guardate che bello stupendo quindi questo per decorazione agenda secondo me va alla grande poi abbiamo questo bianco con le rose anche questo è magnifico e comunque sono tutti washi tape quindi fatti proprio con la carta del washi davvero stupendo poi c'è questo che è azzurro vediamo un attimino lo srotolo un pezzettino ha i banner e le rose bellissimo anche questo si può utilizzare e scriverci sopra weekend poi questo da 0,8 mm è stupendo anche questo e ha tutti i cuoricini bellissimo e poi quello da 0,5 ci sono delle scritte vediamo se riesco a srotolarlo dreaming to lack all that is his no proprio sono sono diverse scritte sinceramente non so cosa voglia dire però magari man mano le uso andrò a cercarmi anche il significato così almeno sappiamo quello che stiamo facendo quindi questo era il primo kit il primo set il secondo set è questo a tema fenicotteri è un po' tropicale anche qua sono 10 bellissimi wash che ora vi mostro nel dettaglio allora iniziamo con quello grosso ed è stupendo come potete vedere ha sui fenicotteri mentre l'altro grande ha su le foglie tropicali con i cuori davvero davvero stupendo poi abbiamo quello da un centimetro e mezzo dove uno è questo qua con questi ramoscelli foglioline poi c'è questo meraviglioso con le stelline vediamo se le srotoliamo un attimino se trovo il punto di inizio così lo vedete meglio che carino no veramente stupendo bellissimo poi quello da 0,8 che è fatto così anche qui ci sono fiori e praticamente sono fiori tropicali e poi quello più piccolino sembrerebbero delle piume ma non sono sicura comunque anche se fosse astratto è veramente carino poi abbiamo questo allora questo è fatto tipo i quadretti del quaderno e poi ha i vari fumetti have a good dream e poi ci sono delle scritte tipo epiphany iridescent ineffable poi abbiamo questo che anche questo è stupendo e ve lo srotolo un pezzettino per farvelo capire meglio sono tutti palloncini davvero davvero stupendo questo invece ha queste foglioline e questi sembrerebbero boccioli non so di che pianta però mentre questo qua più sottile ha questi fiocchettini azzurri passiamo poi al terzo set che è a tema giappone allora anche questi preparatevi perché sono stupendi allora abbiamo questo grosso che ha su una giapponesina ha su le varie giapponesine e sono così in verticale poi abbiamo questo che è stupendo guardate con uno sfondo azzurro e i fiori di ciliegio bellissimo questo stava bene appunto con la decorazione di planners anonymous poi quest'altro sempre con i fiorillini di ciliegio però è su sfondo bianco questo sembrano tanti petali e qualcosa di astratto e questo piccolino è rosa con i fiorellini piccolini bianchi l'altra fila da 5 allora c'è questo rosso con i fiori di ciliegio stupendo poi abbiamo questo sempre con i fiori di ciliegio su sfondo bianco questo che è bellissimo perché si intravedono praticamente i rami con i fiori di ciliegio questo abbiamo sempre dei ramettini col fiore di ciliegio e questo piccolino invece sono tante foglioline o scusate foglioline tanti petali quarto set a tema marino abbiamo questo grosso con sulla balena e i vari pesciolini bellissimo poi questo è particolare perché ha i pesciolini e poi ci sono tutte le bollicine anche qua cerco di aprirvelo guardate che carino stupendo poi abbiamo questo azzurro con le stelle marine blu bianche bellissimo questo che ha tipo le squamette del pesce oppure della coda di sirena e quello piccolino ecco questo qua è arrivato un po deformato praticamente ha vedete qua il simbolino dell'elettrocardiogramma però blu l'altra colonna di wash invece abbiamo questo grosso da 3 centimetri guardate che meraviglia è un fondale marino con delle pianticelle acquatiche e le bolle stupendo poi abbiamo questo con una foglia comunque di una pianta marina questo dove abbiamo il corallo la stella marina altre alghe bellissimo questo qui invece è astratto sui toni del violetto lilla azzurrino e quello piccolino invece è questa ghirlanda diciamo fatta di tanti tanti pallini l'ultimo set è a tema unicorno anche qui la scatola è arrivata un pochino schiacciata poverina e abbiamo allora qua amanti degli unicorni preparatevi perché sono stupendi allora questo grosso guardate che carino bellissimo poi abbiamo questo che è un po' astratto ah no scusate sono tanti banner di colori pastello quindi un po' colori arcobalenosi unicornosi poi abbiamo questo che anche questo è davvero stupendo perché abbiamo tanti unicorni poi c'è il cuoricino con scritto unicorn qui abbiamo quello da 0,8 mm che è c'ha tipo dei cupcake con i cuoricini dei fiorellini dei cuoricini non so cosa c'entri con l'unicorno però va bene lo stesso e poi questo qua piccolino con tanti fiocchettini viola gli ultimi cinque allora abbiamo quello da 3 cm che anche qua è bellissimo perché abbiamo l'unicorno con lo sfondo abbiamo tanti cuoricidi e poi c'è il tendone non capisco se è il tendone ma si sembra quasi un tendone da circo sembrava anche una giostra di cavalli ma è più tendone da circo poi abbiamo questo che è stupendo azzurro vabbè ho detto mille volte è stupendo azzurro con queste stelline che sembrano quasi o appese oppure se si guarda così attaccate tipo come se fossero delle bacchette magiche poi abbiamo questo che è un po' più astratto dove ci sono tanti palline colorati pallini o palloncini no forse pallini bellissimo comunque sempre dei colori molto tenui e pastello poi abbiamo questo dove ci sono dei fiorellini molto carino e infine l'ultimo quello più sottile è carinissimo anche lui perché ha cuore foglioline stella fogliolina cuore stella foglioline carinissimo per fare delle divisioni o delle grechine questi appunto sono i 50 washi tape che ho acquistato su aliexpress a un prezzo veramente molto molto competitivo perché gli ho pagati penso di aver pagato 3 euro a set fate conto che ogni set ha 10 a 10 washi tape ora passiamo alle figurine allora andiamo a vedere un attimino che cosa ho trovato stavolta allora adesso le apriamo e le guardiamo credo di non averla vediamo un attimino vado a memoria uh che bella questa con gli orsetti questa forse già ce l'ho quindi la tengo lì da parte poi apriamo il secondo pacchetto e abbiamo uh che carina la streghetta di Halloween forse questa ce l'ho però non sono sicura non mi ricordo perché poi le ho viste da altre youtuber quindi un po' magari mi confondo mi sembra che le ho invece non le ho il vestitino bene bene e questa credo di non averle poi uh bella lei quelli del mago di Oz un altro vestitino un altro vestitino cioè le calzette e questa poi quarto pacchetto abbiamo lei che penso sia cappuccetto rosso che non ho un altro vestitino poi lei cappuccetto rosso un altro vestitino e questa con la civetta che però mi sembra di avere quindi la mettiamo lì l'ultimo pacchetto abbiamo wow lei che va al mare dove appunto ci sono i particolari argentati qui abbiamo il vestito da clown questa questa che carina e questa credo di averne trovate solo tre doppie però adesso vado ad attaccarle sull'album e poi vi dico un attimino com'è la mia situazione figurine allora facciamo il punto della situazione questa volta su cinque pacchetti quindi in totale venticinque figurine ho trovato queste quattro doppie quindi due di quelle un po' speciali fatte in stoffa e due normali ok ora vi faccio vedere un attimino sfogliamo velocemente l'album allora qui ho quasi finito la prima bambolina da vestire e poi ho trovato il costumino che l'ho messo l'ho messo su questa perché appunto qui c'è la conchiglia quindi sicuramente questa qui è quella da vestire in questo modo allora quindi nella prima pagina ho questa poi qui ho messo questa qua vabbè avevo già messo l'altra volta però ho aggiunto questa questa ce l'avevo già anche questa qui ho praticamente messo queste qua ho aggiunto lei qui ho trovato le calze della petta poi qua ho trovato questa qui niente qua questa qui con gli orsetti qui ho trovato il vestitino queste ce le avevo già qui ho completato la pagina perché ho trovato questa e questa poi ho trovato anche questa qui i personaggi del mago di Oz poi ho trovato questa quella ce l'avevo già anche questa qua ancora nulla qui ho trovato il vestitino del pagliaccio qui il maglioncino questa e poi credo basta sì perché questa ce l'avevo già esatto bene per ora in totale di doppie ne ho ne ho otto quindi non sono ancora tante vediamo se riesco a scambiarle poi non so se ne comprerò altre magari ogni tanto comunque le compro non so se lo faccio tutto comunque non vi consiglio di comprare la scatola intera perché è già due ragazze mi hanno confermato che nella scatola intera non si trovano tutte anche se dentro ci sono 250 figurine non si trovano tutte per cui vedete voi o le comprate e poi ordinate quelle che vi mancano perché si possono ordinare qui c'è il codice sconto sull'album oppure continuate la raccolta man mano comprandoli in edicola come un po' faccio anch'io io vi ringrazio per avermi seguito vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao